Bentornati amici investitori, nuovo appuntamento con le interviste di Vivere di Dividendi. Oggi abbiamo una realtà molto innovativa, un'altra delle nostre belle eccellenze italiane. Infatti andremo a scoprire Eviso e andremo a farlo insieme al suo amministratore delegato e fondatore Gianfranco Sorasio. Spero che l'accento sia giusto. Ciao Gianfranco e benvenuto. Ciao Domenico, grazie a te per l'invito. Sono molto contento, sia perché è una realtà, tra l'altro siamo vicinissimi, perché voi siete a Saluzzo, io sono a Torino. Quindi è una realtà veramente del territorio, magari sarà bello anche venirvi a trovare di persona. Adesso andremo a vedere nello specifico l'ambito di Eviso, perché ha una piattaforma di intelligenza artificiale molto interessante con delle grandissime potenzialità trasversali su diversi settori. Io do una piccola nota introduttiva, perché è importantissimo. Noi sappiamo che sul mercato AIM Italia, Eviso è quotata sul mercato AIM Italia, abbiamo il limite di un numero di azioni solitamente intorno ai 3.000 euro per l'investimento. Invece Eviso, dato che ha una capitalizzazione superiore a 40 milioni, ha la possibilità di far investire addirittura con un minimo di un'azione. Quindi non c'è per chi volesse pensare di investire in questa società il limite, ma addirittura possiamo comprare un'azione. Questo solo per inciso, perché è una differenza importante rispetto alle altre società quotate sul mercato. Con questa decisione abbiamo strizzato l'occhio in modo evidente al mercato retail. Assolutamente. E qui io mi taccio, perché in realtà è importante, fondamentale, sentire te Gianfranco. Ci vuoi fare innanzitutto un'introduzione di che cos'è Eviso e cosa fa? Ma certo, grazie Domenico. Eviso è una piattaforma di intelligenza artificiale che utilizza tutte le nuove tecnologie digitali per dare dei servizi ai clienti. Il primo settore a cui abbiamo applicato la potenza di questa tecnologia è il settore dell'energia elettrica. Quindi noi forniamo energia a migliaia di clienti, come potrebbero essere gli ascoltatori di questa trasmissione, e prevalentemente ad aziende e al mercato domestico. Vendiamo quindi non solo l'energia elettrica, ma anche da qualche mese abbiamo espanso il campo di applicazione al settore del gas. Ecco, mi piacerebbe fare un esempio. Tutti noi, prima di Netflix o prima di Amazon Prime, già guardavamo la televisione. Non è che i film non c'erano prima di Netflix e adesso ci sono. Netflix è una piattaforma che, grazie a tutti i suoi strumenti, dà dei servizi molto più ampi per guardare film. Nel nostro caso è molto simile. Ai nostri utenti dell'elettricità è vero che ce l'avevano anche prima di Eviso, solo che Eviso dà costantemente delle allerte, dei suggerimenti, suggerisce, per esempio, se il contatore dell'elettricità ha delle potenze troppo elevate, suggerisce di ridurlo, ovvero dà tutta una serie di suggerimenti cuciti per ogni singolo utente. Quindi questo è del settore elettrico e del settore del gas. Poi lo stiamo ampliando, l'abbiamo fatta ad altre commodities. Ma in questo caso, quindi, se dovessimo dare un'identità ad Eviso, cioè la vostra piattaforma di intelligenza artificiale, cioè voi sviluppate prettamente la piattaforma o in questo caso fate praticamente anche la parte da contractor? Cioè io domenico ho bisogno della luce e il gas e quindi chiamo Eviso per avere la fornitura. Sì, allora noi utilizziamo un modello molto americano in cui più che parlare di piattaforma come tecnologia si definisce piattaforma come business model ma in cui si hanno tutti i punti della catena. Prendiamo ad esempio Netflix dalla produzione di film all'esame di quali film sono quelli che sono più visualizzati, ovvero si ha tutta la catena di valore. Per noi è la stessa cosa, nel caso dell'energia elettrica abbiamo sia una rete commerciale che vende al cliente finale, raccoglie le informazioni, sia la sensoristica, sia l'invio delle allerte, ma anche la parte di approvvigionamento sui mercati elettrici. In questo caso ricordo che la nostra piattaforma è una news che è uscita a gennaio, nel mercato elettrico italiano ha raggiunto quello che si chiama supremazia digitale, ovvero le nostre macchine sono in grado di emettere in ogni singolo momento il numero massimo di offerte che la piattaforma energetica nazionale permette, ovvero abbiamo saturato non la nostra capacità, ma la capacità del mercato elettrico di ricevere offerte d'acquisto di vendita di energia. Quindi tornando alla domanda, noi abbiamo tutta la catena di valore dal contatto con il cliente all'approvvigionamento su tutti i mercati. E questo lo fate su tutto il territorio nazionale? Cioè io, Domenico, che ho la mia casa in Puglia, in questo caso, posso chiamare Viso e avere la fornitura elettrica tramite voi? Sì, ci sono due possibilità. Noi come Viso possiamo farlo su tutta Italia. In realtà la nostra piattaforma è un servizio che diamo, perché il business model la piattaforma quello che è importante è avere più utenti possibili e raccogliere i dati in modo da riuscire a crescere. Noi diamo, la piattaforma la usiamo sia per i nostri clienti diretti, ma forniamo più di 20 nostri concorrenti a cui diamo sostanzialmente quasi tutti i servizi che diamo ai nostri clienti, ma sono poi i nostri concorrenti che mandano la bolletta al cliente finale. Quindi può darsi che tu in Puglia come gli ascoltatori in Sicilia siano già, magari hanno un contratto con un venditore di zona, ma che compri già da noi buona parte della piattaforma. Ovvero cerchiamo di dare questo servizio a più utenti possibili, alcuni diretti, ma alcuni indiretti. Ti confermo che abbiamo molti più utenti indiretti che clienti diretti. Quindi sostanzialmente avete due rami di business, quindi una parte dove fate da avere proprio il rivenditore intermediario dell'energia elettrica, come quando facciamo la nostra bella ricerca su facile.it, tutti i fornitori di energia elettrica potete fare quel servizio, però principalmente quello che vi contraddistingue diciamo come azienda invece è l'aver sviluppato questa piattaforma di intelligenza artificiale che usate sia per i vostri clienti ma sia per altri fornitori di energia elettrica. Corretto, magari tu vai su facile.it e trovi che nei primi dieci, magari avviso non c'è, ma nei primi dieci cinque acquistano già i servizi da noi. Quello che a noi interessa come piattaforma è di servire al meglio il cliente. Poi qual è il canale? Questo direi, è un po' come Netflix che non è che deve andare tutto nel canale, nella rete di telecom, nella rete di Photophone. L'importante è arrivare al cliente finale. Poi se per farlo deve fare accordi con chi sia, per noi va benissimo. Vogliamo scalare al massimo il numero di utenti per rendere la piattaforma sempre più intelligente, sempre più veloce e sempre più adatto alle nuove condizioni del mercato. Ci fai però degli esempi pratici perché noi sentiamo tutti i giorni parlare di piattaforme di intelligenza artificiale, ma poi alla fine che cosa fanno? Qual è anche il valore aggiunto per l'utente finale? Perché anche i vostri clienti vengono da voi a comprarsi la piattaforma di intelligenza artificiale? Ma immaginiamo, grazie Domenico, immaginiamo l'utente, il proprietario di un bar che decide di passare con i viso. Prima di tutto riceve un nostro commerciale che identifica e fa l'offerta cucita per i bar. per esempio i bar hanno un'offerta diversa dagli hotel, hanno un'offerta diversa dall'industria della plastica. Poi nel momento in cui entra in fornitura con noi che cosa succede? Che il proprietario del bar inizia a ricevere delle allerte, delle informazioni. Attenzione, ieri notte hai consumato di più della media delle ultime notti. Attenzione che la settimana scorsa hai consumato in media di più di quello che stai facendo. Attenzione che secondo noi i tuoi frighi consumano troppo. Se chi riceve il messaggio incuriosito può telefonare in eviso e noi abbiamo un team di ingegneri preparati che gli suggeriscono anche attenzione se hai cinque frighi faccio l'esempio del bar di cui due sono mezzi vuoti ti consigliamo di spegnerli e riempire i frighi anziché attenzione secondo noi hai dei frighi per le bibite che sono ancora magari obsoleti dovresti cambiarli a questo tipo di frighi che sono magari a pozzetto che consumano molto meno oppure tutta una serie di suggerimenti che le macchine invino in automatico. Dove entra l'intelligenza artificiale? Pensiamo a YouTube se io vado su YouTube e vedo un video non lo so vedo un video di lancio col paracadute YouTube inizia a suggerirmi tutti i video del lancio col paracadute ma ogni tanto mi suggerisce dei video diversi mi dice ti piace il video dello sci è l'intelligenza artificiale che sonda l'utente noi facciamo la stessa cosa non è che se io un bar ricevo solo le allerte del bar ricevo le allerte relazionate al bar ma anche vicino ad altre allerte magari ti mando un'allerta del frigo un'allerta dell'illuminazione ma un'allerta diversa per capire se il tuo bar è anche hotel o è soltanto bar e quindi l'intelligenza artificiale serve per sondare quali sono le vere intenzioni di chiunque sia il nostro consumatore questo alla fine che cosa porta che chi consuma risparmia fa meglio il proprio lavoro riduce la manutenzione dei propri sistemi perché se io uso le mie macchine meno ore alla fine farò meno manutenzione ed ha una risposta direi sempre pronta molte volte siamo noi a telefonare ai clienti per segnalargli anomalie ovvero gli chiamiamo per dire guarda che non ti sei accorto ma tu stai facendo questo vuoi che lo correggiamo sì grazie quindi è preventivo anziché correttivo però è completamente diverso da tutti quelli giusto a scanso di equivoci che ogni 5 minuti ci chiamano perché ci vogliono fare cambiare il contratto noi non chiamiamo quindi noi non chiamiamo nessuno abbiamo molti grazie a Dio abbiamo moltissimo passaparola normalmente sono gli utenti che ci consigliano altri utenti perché la nostra forza è proprio in tutti questi servizi chi rimane direi soddisfatto poi consiglia abbiamo fatto un sondaggio voglio dare un po' di colore ma una delle domande che facciamo nei sondaggi è verso i nostri clienti è come sarebbe il mondo senza il viso e quindi la domanda è uguale ad adesso un po' meglio un po' peggio o molto peggio 82% dei nostri clienti dicono che un mondo senza il viso sarebbe o molto peggio o peggio di adesso quindi vuol dire che l'impatto sul mondo più o meno almeno sui nostri utenti ce l'abbiamo tornando sempre sulla piattaforma come l'avete sviluppata e soprattutto i vostri competitor diciamo comunque chi fa il vostro stesso mestiere come usa questa piattaforma e perché poi magari non sono neanche in grado di replicare una piattaforma del genere allora importante differenziare non è che è viso a una piattaforma ovvero che al secondo piano c'è l'azienda che lavora e negli scantinati ci sono gli ingegneri che programmano non esiste questa distanza noi diciamo che viso è una piattaforma perché chiunque mentre lavora popola di dati la piattaforma e usa la piattaforma allo stesso tempo faccio alcuni esempi i commerciali che vanno presso il cliente per fare delle proposte usano la piattaforma perché noi abbiamo più di 200 offerte ognuna diversa ma quando si siede davanti al cliente la macchina suggerisce qual è l'offerta giusta e quindi usano i dati ma allo stesso tempo raccolgono dai clienti delle informazioni come mai il cliente ci ha scelto perché non ci ha scelto qual era l'offerta precedente e quindi chiunque lo utilizza abbiamo questo scambio dall'altro lato per esempio la piattaforma noi dobbiamo prevedere il futuro l'intelligenza artificiale ci aiuta per prevedere il futuro perché l'energia deve essere comprata prima dell'utilizzo altrimenti ci sono delle penali molto molto elevate noi queste previsioni del futuro che facciamo costantemente le condividiamo con i nostri utenti quindi per esempio domenico che cosa succede che noi alle 2 di pomeriggio ti diremo attenzione il costo dell'energia domani in queste ore sarà questo quindi io ti dico prima che tu consumi quanto sarà il costo così che tu puoi se vuoi ridurre il costo nelle ore molto care e spostarlo nelle ore meno care e quindi la piattaforma dà informazioni sul futuro ecco noi questo l'abbiamo costruito con gli anni abbiamo allenato gli algoritmi e misuriamo la nostra direi che cosa fanno i concorrenti quello che abbiamo visto è che vi do dei numeri ma che sono pubblici nell'esercizio fiscale chiuso al 30 giugno del 2020 la media degli acquisti effettuati dai viso sul mercato elettrico era di più di 50.000 offerte al mese il secondo operatore per numero di acquisti era Sorgenia tutti gli altri operatori con 24.000 offerte tutti gli altri operatori avevano meno di 5.000 offerte tutti gli altri quindi questo vuol dire che semplicemente facciamo uno sport diverso noi usiamo i dati per suggerire comprare in continuo correggere le posizioni i nostri concorrenti i grandi concorrenti fanno l'attività attuale come facevano 20 anni fa sostanzialmente direi in un modo diverso senza usare tutta questa potenza che c'è adesso sul tavolo e da questo punto di vista quindi chi sono ad oggi i vostri concorrenti magari in Italia o se in Italia non ci sono anche fuori ma direi abbiamo chiesto a Long Term Partner che è una società di ricerca di mercato molto conosciuta è uscito proprio ieri un bel articolo su Finance Magazine ma abbiamo chiesto a loro di individuare quali fossero i concorrenti che avessero una piattaforma di intelligenza artificiale ma nel settore delle commodities quindi non applicate ai film ai siti internet alle consegne come magari sono Google o altri ma ha applicato proprio le commodities l'energia elettrica il gas il grano le mele e quello che hanno visto è sì esistono dei motori che aiutano a fare trading che sono i robot ma questa è un'attività diversa invece che ottimizzano la catena di valore all'interno delle commodities ecco dei comparables diretti non ce n'erano i comparables normali sono invece quelle società le big tech che pian pianino si stanno espandendo dalle commodities più digital alle commodities più reali quelli possono essere dei concorrenti o degli alleati perché Google è la prima sviluppatrice di protocolli di intelligenza artificiale quindi quindi anche lì o vi trovate a fare concorrenza o magari vi acquista al doppio del prezzo magari parlo con il cappello dell'investitore non lo so tutto è possibile e ogni direi nei prossimi anni nei prossimi 3 o 4 anni tutte le opzioni sono sul tavolo ma direi abbiamo una nicchia molto ben definita le commodities che hanno una consegna reale fisica in cui la mancanza di consegna si porta dietro delle penali molto elevate e questo nel settore agri-food c'è nel settore del gas c'è nel settore dell'elettricità c'è quindi abbiamo ampi spazi ricorda che il mercato elettrico il volume del mercato elettrico in Italia è di circa 60 miliardi mercato del gas circa cifra tonda 40 miliardi quindi stiamo parlando di un mercato di energia in Italia da 100 miliardi il mercato delle commodities agricole solo il grano che è per esempio il mercato Matif Euronext Parigi è 60 miliardi all'anno quindi direi che sono nicchie di mercato ma molto ampie infatti mi hai anticipato proprio perché volevo chiederti qual è adesso la potenzialità sul mercato di una piattaforma del genere e comunque la vostra potenzialità anche come azienda quindi magari penso espandersi sul mercato italiano ok magari espandersi anche fuori però mi hai anche già anticipato non sull'energia elettrica si potrà fare altro corretto quindi l'energia elettrica e il gas sono i vettori che nei prossimi anni avranno il maggiore impatto in termini direi di fatturato perché sono i settori molto ben avviati in cui siamo espandendo la nostra share del mercato ma allo stesso tempo e qui utilizzo le parole di Jeff Bezos che dice che tutti conoscono i successi ottenuti overnight da Amazon ma che sono iniziati dieci anni prima e quindi per entrare in un mercato in modo esplosivo direi c'è una parte iniziale che poi sul mercato si vede solo quando esplode ma in cui è già iniziato prima noi già dal 2017 abbiamo iniziato a sviluppare delle tecniche di previsione per il mercato della frutta come prevedere la produzione futura di mirtilli di mele di pesche 2017 ci sono i primi convegni sull'intelligenza artificiale l'abbiamo organizzato in provincia di Cuneo già nel 2017 abbiamo lanciato ieri una piattaforma di visualizzazione di dati sulla mela quindi piattaforma smartmele che trovate a smartmele.iviso.it in questo caso perché la mela faccio un passo il frutto più venduto al mondo è la banana 100 milioni di tonnellate la banana è però distribuita sostanzialmente in un modo molto preciso perché il mercato dei produttori è popolato da pochi produttori quindi è un mercato molto stabile il secondo frutto al mondo la mela con 80 milioni di tonnellate invece ha produttori e distributori molto frastagliati e non esistono per esempio accordi quadro con consegne a 6, 12, 18 mesi e quindi in quel segmento che abbiamo deciso di espandere e quindi abbiamo ampliato la piattaforma con due fasi è un po' come se io utilizzo una piattaforma per comprare le azioni ho una parte della piattaforma che mi fa vedere i dati e una parte della piattaforma che mi permette di acquisire le azioni noi ieri abbiamo lanciato nel mercato delle mele la parte di visualizzazione di dati quali sono i prezzi quali sono i mercati nei prossimi mesi lancieremo la seconda parte quella dell'acquisto della vendita di container quindi parliamo all'ingrosso di mele una piccola parentesi quando Gianfranco dice ieri noi stiamo registrando al 26 di febbraio quindi ovviamente riferito al 25 per chi vedrà questo video ieri al 25 esattamente ieri la notizia mi sembra delle otto e mezza della release di questo portale in cui principalmente abbiamo raccolto da un numero di fonti non umano dati su qualsiasi tipo di mele quindi dalla capacità di frigoconservazione in Polonia alla produzione in Italia al prezzo in Francia in Cile in Australia è un mondo molto interessante ma poi si fa subito a dire mele poi magari cioè sappiamo invece nella realtà ci sono solo che ne so 100 dico un numero varietà diverse di mele e all'interno della varietà ci sono le caratteristiche per ogni varietà corretto vi faccio un esempio noi per proiettare in modo accurato il prezzo delle mele a settembre facciamo un esempio settembre ma il prezzo della mele a settembre dipende uno dalla produzione che ci sarà in Italia ma anche dalla produzione in Polonia in Francia ma dalla produzione in America poi il prezzo delle mele a settembre dipenderà dagli altri frutti perché se la pesca costa poco la gente compra la pesca ma dipende anche da quanto pieni sono i frighi di mele se i frighi sono ancora pieni dell'anno scorso qualcuno li vorrà svuotare e quindi il prezzo tutte queste parametri devono essere considerate allo stesso tempo per proiettare un prezzo questo è che fa l'intelligenza artificiale non usa la statistica ma prende tutti i segnali per trasformarli in dati non è umana questa attività assolutamente quindi comunque una piattaforma che dalle tue parole ha delle prospettive comunque dei campi di utilizzo che sono molto ampie e quindi anche vi può dare una possibilità di crescita molto molto elevata in Italia e fuori allora noi quali sono le commodities di interesse sono quelle commodities in cui il volume è sostanzialmente stabile se noi pensiamo all'energia elettrica e il gas è un volume stabile negli anni ma anche il grano aumenta magari dello 0-2% all'anno quindi il volume di consumato prodotto è molto stabile le fluttuazioni sono molto elevate di prezzo quindi ci sono fluttuazioni molto importanti tutte queste commodities le hanno e iniziano o sono popolate da una mole di dati sempre crescente l'energia elettrica nel 2012 si raccoglievano un certo numero già i contatori digitali raccoglievano un certo numero di dati i nuovi contatori digitali di seconda generazione adesso raccolgono mille volte più dati di quelli precedenti il gas prima il contatore era raccolto ad occhio una volta all'anno se va bene adesso i nuovi contatori digitali lo raccolgono qualche volta all'anno quindi si parta nel caso della frutta faccio l'esempio delle mele vent'anni fa arrivava il trattore scaricava le mele davanti al frigo della frutta ed era finita oggi ogni singola mela diciamo riceve almeno sette fotografie nello spettro visibile per determinare colore e calibro quanto è grossa e com'è e due fotografie nello spettro infrarosso per capire se ci sono anomalie questo vi dà un'idea della mole di dati che esiste nel mercato della frutta io parlo di mele ma in realtà potrei parlare anche di altri frutti il grano è la stessa cosa se pensiamo al numero di derivati che esistono del grano che sono transitati ogni giorno sul mercato Matif ci dà un'idea del numero di dati che vengono prodotti quindi in questo caso praticamente siccome mi hai detto appunto che è relativa all'ingrosso diciamo un grossista della frutta tramite la vostra piattaforma può sia visualizzare i vari prezzi e comunque avere magari anche direttamente i suggerimenti su che cosa eventualmente comprare e piazzare direttamente gli ordini e i fornitori potrebbe immaginiamo un grossista esatto della frutta potrebbe sia vedere immaginiamo quali stock nel mondo sono pieni di frutta o sono vuoti e magari attendere l'acquisto un mese che si suotino che si riempiano oppure comprare ecco questo non è ancora attivo sarà attivo nei prossimi mesi ma in futuro può decidere di comprare con consegna settembre ottobre novembre un container di frutta di una certa tipologia esattamente di quella che piace a te domenico magari con un certo calibro un certo colore con una consegna futura corretto e ad oggi piattaforme analoghe che fanno questi mestieri ce ne sono già o no? noi nel settore delle mele non la conosciamo poi dopo il mercato è talmente ampio che potremmo aver perso ma ci sono delle piattaforme che come funzione del mercato che permettono di comprare spot oggi compro consegne per i prossimi cinque giorni dieci giorni per il prossimo mese ma consegne a sei dodici diciotto mesi noi non le conosciamo perfetto e oltre a questo sviluppo e a questo business un'altra cosa molto interessante che mi ha fatto molto piacere scoprire è che voi state in realtà realizzando anche un centro di eccellenza voi siete su Saluzzo dove hai appunto l'idea di costruire questo centro di mi ripeto di eccellenza comunque di raccogliere un po' quelli che sono le migliori intelligenze del settore per fare una sorta di hub sull'intelligenza artificiale corretto quindi noi come viso abbiamo tutta una serie di sviluppatori in Italia ma abbiamo anche molti sviluppatori internazionali quando dico internazionali abbiamo una base quindi collegamenti molto forti al Portogallo perché il Portogallo è un pool di talenti digitali veramente d'eccellenza ricordo che Forbes ha definito il Portogallo come la West Coast d'Europa lì arrivano i cavi di fibra ottica ci sono i centri di ricerca di Google Siemens i principali centri di ricerca ma poi abbiamo sviluppatori internazionali da tutto il mondo l'idea è di avere un hub a saluzzo ma che serva non solo per raccogliere i talenti sia quelli che ci sono in permanenza sia quelli che arrivano da tutto il mondo ma avere anche degli spazi che permettano quando vengono di interagire con il resto dell'azienda e anche da servire come dicevi tu come hub per avere altre società che siano nostre partecipate o no ma che si scambiano all'interno di uno stesso spazio costruito per queste nuove tecnologie che si scambiano idee per creare direi anche nuove opportunità e da questo punto di vista l'unione sia di questa struttura appunto che dà poi sia poi il motore di tutta la vostra azienda sia la piattaforma che c'è già e con tutte le sue potenzialità ora ti chiedo un po' di fare il mago dal punto di vista del fatturato quali prospettive di crescita quindi previdi per Viso allora direi che sono usciti negli ultimi giorni quindi a partire mi sembra dal 15 di febbraio le ricerche che sono scaricabili dal nostro sito sia di Ubi che ha fatto l'inizio della copertura sia di Alantra quindi noi abbiamo due analisti che hanno emesso le ricerche questo per informare il mercato in modo con ottiche diverse non è usuale che una società dell'AIM abbia due analisti ecco quello che loro indicano guardando il futuro è una crescita molto importante nel settore elettrico spinta sia dalle vendite dirette sia dalle vendite direi ai nostri concorrenti di tutti i nostri servizi quindi l'energia elettrica crescita molto importante poi i numeri direi che gli analisti hanno fatto un ottimo lavoro nel proiettare i numeri e anche del gas quindi questo a livello di fatturato invece se andiamo a guardare a livello di EBITDA nei prossimi anni a parte l'EBITDA risultante dell'energia elettrica dal gas penso che sarà sempre più visibile anche l'EBITDA derivante dai servizi di cui parlavamo prima perché noi nel mercato per esempio delle mele non acquistiamo le vendiamo mele serviamo diamo un servizio di piattaforma e quindi in questo caso è quasi pura marginalità perché l'infrastruttura è già stata costruita quindi guardando al futuro non ci saranno grandi fatturati dalle altre commodities proprio perché non le tradeiamo ma ci saranno invece impatti dal punto di vista dell'EBITDA quanto saranno importanti questi impatti è ancora prematuro dirlo ma direi che abbiamo un outlook una visione positiva ora la piattaforma stessa ci dirà quanto crescerà nel futuro è bravissimo ma ti faccio un esempio il business i business a piattaforma che cosa hanno hanno un tempo in cui la parte più importante è costruire l'infrastruttura tecnologica e noi in questo l'abbiamo fatto il secondo punto è aprire questa infrastruttura a utenti diversi e quindi a più attività questo è quello che stiamo facendo poi però una volta che è aperto se l'espansione è esponenziale o lineare è il contesto che sostanzialmente deve essere preparato o no all'infrastruttura faccio un esempio noi l'anno scorso servivamo circa 10.000 utenti per i nostri concorrenti e ne servivamo 13.000 diretti quindi 10.000 per i nostri concorrenti quest'anno nel solo mese di febbraio e questa informazione è stata divulgata inizio mese nel solo mese di febbraio i nostri concorrenti ci hanno affidato più di 15.500 nuovi punti quindi in un singolo mese ci sono stati affidati in gestione più punti di tutti quelli che abbiamo servito l'anno scorso quindi veramente con una tendenza divergente che speriamo continui ma direi è un po' esterno anche adesso vi terremo informati la semestrale quindi parlando di numeri la semestrale verrà emessa a fine marzo e quindi direi lì avremo dei numeri l'esercizio fiscale si conclude al 30 giugno e quindi la semestrale luglio-dicembre verrà pubblicata questo marzo verso fine mese ti volevo chiedere in questo caso siccome è un settore comunque nuovo e ci stiamo approcciando adesso quali sono i possibili rischi sia come settore sia poi eventualmente se ci sono dei rischi specifici legati all'investimento in una società come Viso ma allora io direi la piattaforma è uno strumento che offre moltissime potenzialità adesso quanto il mercato reagisce a queste potenzialità dipende proprio dal contesto qualcosa che funzionava in periodo pre-covid non funziona durante il periodo covid e quindi questo per dire che la tecnologia può dare dei servizi interessantissimi ma se in quel momento l'utente non è interessato o non ha il famoso mal di denti che lo spinge a provarlo allora la tecnologia può essere pronta ma se l'utente non lo è ecco ci sono dei ritardi io direi queste un po' alcune incognite se il livello di penetrazione delle nostre tecnologie magari lo si raggiunge in 12 mesi o in 24 mesi o in 6 mesi è un po' definito dal contesto contesto che negli ultimi due anni diventa veramente difficile da prevedere perché non sappiamo se siamo a casa o se siamo in ufficio se mangiamo più questo o quello se consumiamo più elettricità o meno elettricità quindi più gas o meno gas quindi direi un contesto mobile è un po' un'incognita che tutti noi abbiamo davanti e che dobbiamo imparare direi più che a controllare a gestire ecco quindi l'incognita è quando metteremo a terra il valore che creiamo in nuovi segmenti se in 6 mesi 12 mesi o 18 mesi questa è un'incognita ma abbiamo la pazienza e adesso abbiamo raccolto le risorse per senza dubbio navigare in questi periodi e in conclusione invece per quanto riguarda un eventuale politica dividendi immagino che adesso siete assolutamente focalizzati come giusto che sia alla crescita e quindi va benissimo così anche per noi investitori immagino mi arrogo il diritto di parlare anche un po' per gli altri però in generale come la vedete anche come la vidi anche tu una politica di dividendo ma allora io direi noi non abbiamo una policy legata al dividendo ma abbiamo più che una policy abbiamo effettuato abbiamo una prassi quindi la prassi degli ultimi anni è stata quella di dare dei dividendi calcolati più o meno in media intorno al 25% della ricchezza generata questa prassi che non è detto che continui nei prossimi anni quindi non è una policy ma è una prassi è anche un po' legata al fatto che ovvero di mantenere una parte fondamentale della ricchezza raccolta all'interno della società per aumentare la crescita ma allo stesso tempo una politica di dividendi permette anche alla società di non sedersi su la ricchezza costruita l'anno prima ma quello che dico il 30 giugno è finito l'anno una parte vengono tolti bisogna reiniziare l'anno non con quello che ho costruito l'anno scorso ma con quello che devo costruire quest'anno quindi è un po' una visione un po' americana ma dal mio punto di vista sana ovvero la maggior parte viene lasciata per investire ma c'è una parte che comunque viene restituita ai soci quindi direi la prassi è stata quella e probabilmente il futuro a meno di decisioni diverse potrebbe seguire sulla stessa linea perfetto grazie Gianfrago perché ci hai dato una panoramica interessantissima di tutto questo nuovo mondo che forse non ci stiamo neanche accorgendo ma per una parte è già intorno a noi è intorno a noi e domani ci ritroveremo immersi quindi volenti o nolenti ci dobbiamo un attimino adeguare o quantomeno informare su tutto ciò è stato assolutamente interessante anzi ti anticipo già che dopo sono io il primo a chiamare per avere una fornitura da parte vostra vai sul sito www.eviso.it e quindi vedi che siamo anche conosciuti per essere più veloci della luce quindi va bene grazie è un piacere averti di nuovo ospite quando vuoi siamo assolutamente disponibili perché è sempre interessante ed importante rimanere aggiornati su tutto questo mondo dell'intelligenza artificiale e davvero complimenti per il lavoro che state facendo grazie grazie per la trasmissione saluto a tutti grazie Domenico grazie a tutti per aver guardato io vi lascio qui sopra il link per vedere tutte le altre interviste che abbiamo già realizzato noi ci vediamo ogni giorno con un nuovo video io vi saluto e buon dividendo a tutti arrivederci